Amo, che stai facendo? C'hai 40 anni di febbre, tu ti metti a pulire. Amo, la casa è da pulire, vai a fare altri video. Amo, come stai? Amore, chiama tutti, sto venendo la luce, sto arrivando, sto male, sto male, chiama mia mamma, chiama tutti, ti prego. Ciao, se sei arrivato a questo punto del mio video, ti rimane solo una cosa da fare, iscriverti al canale qui sopra, se vuoi qui sotto ci sono altri miei due video che vuoi andare a visionare, e lascia un bel like e commenta anche questo video. Noi ci vediamo prossimamente. Ciao, belli!